Allora, vi racconto in breve la mia storia. Allora, intanto il mio nome è Daniele Penna, ho scritto un libro, abbiamo girato un film in Egitto proprio sulla legge di attrazione, il libro non è esclusivamente sulla legge di attrazione, il film sì. Io nasco come una persona, potrei definirmi tecnicamente uno sfigato. Io, quindi fino ai 18-20 anni di età, ero quel ragazzo che non credeva in se stesso, con mille complessi di inferiorità, convinto di non riuscire a far nulla, convinto che non sarebbe mai riuscito a far nulla, convinto che non sarebbe mai riuscito ad avere relazioni sociali, a stare con una donna. Allora, si vedeva brutto, grasso, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ero talmente tanto votato al fallimento che intorno ai 19 anni, lo racconto meglio sul libro, faccio il mio primo tentativo di suicidio e fallisco anche in quello. Quindi questo è stato il mio preambolo. Questo ero io a 19-20 anni. Poi accade qualcosina, dopo quel tentativo di suicidio, in cui probabilmente qualcosa cambia nella mia mente, una sorta di switch, per cui qualcosa cambia e comincia a cambiare l'ambiente circostante. Poi questo lo scopro a ritroso quando ho cominciato a comprendere meglio tutto quello che faccio adesso, che cosa mi è accaduto e che cosa mi ha spinto. Il fatto sta che negli anni successivi, dai 20 ai 25 anni, mi trasferisco a Roma, io sono foggiano d'origine, divento un campione dello sport, facevo tirassegno, sono entrato nel centro sportivo dei Carabinieri. Da lì incontro il mondo della formazione e della PNL. Qualcuno di voi conosce la PNL? Programmazione Neolinguistica. Nel 95-97 divento uno dei primi trainer d'Italia, quindi conosco la PNL, divento prima assistente del mio trainer, poi faccio corsi io stesso e grazie alla PNL mi cambio quasi tutto quello che mi serviva nella mia vita per trasformarmi da uno sfigato a una persona di successo. E per me la PNL era Bibbia, era quella disciplina per cui si poteva fare di tutto. Per chi non sa che cos'è la PNL, è una neuroscienza americana inventata o meglio codificata da un linguista e un matematico, Richard Bender e John Grinder, per cui hanno praticamente, sono andati a modellare le persone che avevano successo, inizialmente i più grandi psicoterapeuti, parliamo di Fritz Perce, di Virginia Satir, di Milton Erickson, padre dell'ipnoterapia, e si sono chiesti se loro riescono a fare dei cambiamenti così importanti sulle persone, probabilmente se noi applichiamo le stesse strategie dovremmo diventare bravi quanto loro. E da questo principio hanno studiato nei minimi dettagli chi riusciva a fare questo creando una sorta di quello che io chiamo manuale della nostra mente. Ed è fantastico perché, lo raccontavo quando facevo esclusivamente PNL, la PNL può essere intesa davvero come una sorta di manuale. È un po' come, e credo che a nessuno di voi quando siete nati o più o meno intorno ai 6-7 anni, i vostri genitori, almeno o meno non è successo, non vi hanno chiamato da una parte e vi hanno detto, caro figlio mio, cara figlia mia, questo è il manuale della tua mente. E da oggi in poi, se hai una paura, vai a pagina 80 e te la togli, se hai uno stato di, non so, di stress, vai a pagina 97 e sai come togliertelo. A me non l'hanno dato questo manuale, non so a voi, forse a nessuno di voi. Eppure, se sapete utilizzare un po' tecniche di PNL, potete gestire questo tipo di emozioni e cambiare qualunque cosa nella vostra mente in maniera discretamente facile. Questo ero io fino a qualche anno fa. La PNL tra l'altro è tanto applicata e oggi forse un po' demonizzata a causa del troppo utilizzo sulla vendita, del troppo utilizzo su tutte quelle cose estremamente egoiche, perché parliamoci chiaro, nel momento in cui una persona sa come funziona la mente della nostra e degli altri, può tecnicamente manipolarli. E questo è in dubbio. La cosa interessante è che su noi stessi possiamo auto-manipolarci, quindi possiamo crearci quegli obiettivi, possiamo crearci quelle strategie che ci permettono di raggiungere quello che vogliamo. E questa è la parte bella della PNL. Peccato che la stessa PNL non prevede tante cose che ultimamente ho scoperto. Premettiamo anche un'altra cosa. Io sono una persona estremamente scettica, atea, proveniente da una famiglia scettica e atea, che non ha mai creduto a qualunque cosa potesse essere al di fuori del nostro corpo. E la PNL anche, la PNL ci dice tutto è dentro di noi, noi siamo in grado di poter fare qualunque cosa, noi siamo in grado di poter raggiungere qualunque obiettivo se ce lo sappiamo programmare. Peccato che ultimamente ho compreso che forse questo era estremamente limitante. Infatti la PNL in alcuni casi non funzionava. Che cosa è accaduto tempo fa? Qualcuno di voi ha parlato di questo libro. Era il 2004, credo. Mi ritrovo in un autogrill dove trovo un monte di questi libri The Secret. E, preso un po' dalla pubblicità fatta che si vedeva sul web da questa mega americanata di The Secret, compro il libro. Senonché, immaginate, io che vengo da una conoscenza di PNL estremamente tecnica, estremamente pragmatica, che comincio a leggere cose del tipo... Andiamo un po'. Quello che la maggior parte delle persone non capisce è che un pensiero è dotato di frequenza. Possiamo misurarlo. E così, se continui a nutrire lo stesso pensiero più e più volte, se immagini di avere quell'automobile nuova di zecca, di procurarti il denaro di cui hai bisogno, di costruire quella società, di trovare la tua anima gemella, se già vedi tutto con gli occhi della mente, stai emettendo quella frequenza su una base coerente. Una sorta di e-commerce universale. Io clicco, chiedo e mi arriva. Chi studia PNL, alla quinta, sesta pagina di qualunque libro di PNL, ti parlano di buona formazione degli obiettivi. Che non è altro che questo. Cioè, l'obiettivo si raggiunge nel momento in cui è ben formato. Ben formato vuol dire che noi per primi ci programmiamo la mente a raggiungere quell'obiettivo ed è il nostro inconscio che in qualche modo ci porta verso quell'obiettivo. Questa è la PNL. Ora mi sono cominciato a chiedere, ma non è che questi americani si stanno rivendendo dei concetti che esistono da una vita come qualcosa di trascendentale, come qualcosa che noi mandiamo verso un chissà quale universo e questa sorta di antenna universale prende in carico il nostro ordine e ci rimanda a qualcos'altro? Bah! Mi forzo ad andare avanti, arrivo a pagina 25, dice i pensieri sono magnetici e dotati di frequenza, mentre li concepisci li invii nell'universo, dove attraggono magneticamente tutte le cose simili che si trovano sulla stessa frequenza. Tutto quello che viene messo ritorna alla sorgente, cioè a te. Arriva da questa pagina, l'ho preso, l'ho chiuso e l'ho relegato nel posto meno importante della classifica dei libri, ovvero la cesta del bagno, quella dove ci sono i libri che normalmente aiutano. Ah, i libri che fanno... avete capito che fanno cose. E da lì non l'ho più toccato. Nel frattempo... Nel frattempo ero diventato un imprenditore di successo, avevo delle mie attività online, vendevo online, quindi avevo il mio magazzino, insomma tante cose che si muovevano online e qualche mese prima di questo evento una persona mi scrisse, io facevo dei corsi gratuiti online su come si vendeva, su come si faceva e-commerce, una persona per ringraziarmi mi scrisse e mi disse Daniele mi dai il tuo indirizzo di casa perché ti devo mandare una cosa che devi vedere. Vabbè, gli diedi l'indirizzo dell'azienda e me ne dimenticai completamente. Questo accadde sei mesi prima. Sei mesi dopo questo evento del libro mi ritrovai in giro per il magazzino cercando di capire i resi, le cose che erano tornate e vedi questa busta senza intestazione, io non so chi è questa donna perché vorrei ringraziarla, perché mi ha realmente cambiato la vita con quel suo consiglio. Questa busta senza intestazione, intestata a me personalmente, non all'azienda, dove lo apro e c'era un cd copiato, lo devo dire, perché in italiano non esisteva ancora, che si chiamava Woodblip. Avete mai sentito Woodblip? Vi faccio Woodblip doing now. E' questo qua. Woodblip doing now. Era ancora un cd copiato in inglese con i sottotitoli in italiano. Questo cd mi aprì un mondo e soprattutto mi diede quella che, io dico sempre, è la prima scintilla che vi permette di crescere. Mi mise un dubbio. Quello che, una regola che io faccio è che metto prima di qualunque corso, conferenza, l'ho saltata la slide, è questa qui, la regola numero uno. Non credete a una parola di quello che vi dirò. Adesso, dopo, in qualunque mio libro, in qualunque mio DVD o in qualunque mio corso. Per un semplice motivo. Non dovete credere a me, dovete credere a quello che accade su di voi. E soprattutto, non è tanto non credere a quello che vi posso dire io, ma non credere a quello che vi dice chiunque altro, senza porvi il dubbio che possa essere falso, ma soprattutto, ancora di più, ponetevi il dubbio che quello che vi dite voi sia falso. Perché la maggior parte dei vostri pensieri non sono vostri. Una delle cose più complesse da fare per un essere umano è avere un pensiero originale. Se io vi chiedessi, cercate di scrivere un pensiero originale, ovvero libero dai condizionamenti, libero da quello che vi hanno inserito i vostri genitori, libero da quello che vi ha inserito la scuola, la chiesa, il sistema, la televisione, la religione, qualunque altra cosa, sarà una delle cose più complesse in assoluto. La maggior parte dei vostri pensieri, delle vostre emozioni, dei vostri comportamenti, delle vostre azioni, sono condizionati da programmi inseriti non da voi. Ecco perché vi dico, non solo non credete a me, ma prima di credere a qualcosa che vi viene detto da dentro di voi, chiedetevi come faccio a saperlo. Ho voglia di fare qualcosa, ho voglia di aprire una nuova azienda, la vocina mi dice no, non ci riuscirei mai. Chiedetegli come fai a saperlo. E facendo questa domanda andrete indietro a scoprire che magari quella vocina è quella di vostro padre, che magari vi ha detto qualcosa, o che magari non è riuscito lui, o che magari ha chissà quali condizionamenti, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è vostra. È un condizionamento che non è vostro. E questo vale per tutto. Per chi magari ci seguirà e faremo altre cose, scoprirete che siamo talmente tanti, tanto pieni di programmi installati non da noi, che avere il cosiddetto libero arbitrio è quasi una follia. Finché non ci liberiamo di tutti i programmi. Ma questa è una storia un po' più lunga. Quello che vi chiedo è semplicemente, non prendete per Bibbia quello che vi dico. Io non mi reputo un trainer, non mi reputo un coach, non mi reputo un maestro, mi reputo un cantastorie. Io semplicemente vi racconto la mia storia. Se la mia storia potrà tornare utile a qualcuno di voi, bene. Sarà stata utile per qualcun altro. A me è stata utile. Quindi semplicemente replico questa. Però non dovete crederci, dovete semplicemente applicarla su di voi e vedere i risultati. Cosa accadde? Questo cd, se non l'avete visto o se non l'avete letto il libro, fatelo, ve lo consiglio perché vi può veramente porre il dubbio. Quale fu il dubbio che mi pose questo cd? Ci sono tantissime cose in questo DVD, credo dovreste vederlo sette, otto, dieci volte per cominciare a comprendere bene tutto. Una cosa mi mise quel dubbio. Fu questo esperimento qui. Il cosiddetto esperimento dei 4.000. Questo tizio che è un yogh indiano, Maharishi Mahesh Yogi, conosciuto per la sua meditazione trascendentale, fece questi esperimenti in tutto il mondo, in più città. Il più grosso in assoluto fu quello di Washington DC. Lui aveva scoperto che un numero particolare, lui chiama effetto soglia, di persone che nello stesso istante meditano in un posto, fanno abbassare, tecnicamente fanno diventare più buoni tutto l'ambiente circostante. E la sua scommessa era di 4.000 persone messe in una palestra a Washington DC che avrebbero meditato per una settimana, avrebbero fatto diminuire del 25% i crimini violenti a Washington DC. Per crimini violenti si intendono stupri, uccisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il sindaco di Washington andò in televisione e disse se è più facile che nevichi in agosto piuttosto che si abbassino del 25% i crimini violenti. Ora Marishi mise 4.000 persone dentro una palestra a meditare con la sua meditazione trascendentale quindi praticamente a mandare emozioni positive e in quella settimana i crimini diminuirono del 25%. Non solo i crimini violenti ma anche gli incidenti, i rapimenti, i furti, anche le cose più piccole. Praticamente la gente divenne più buona semplicemente perché 4.000 persone meditavano da una parte tutto il mondo circostante a loro diventava più buono. non è che forse qualcosa che quello che noi pensiamo va fuori di noi e non resta soltanto dentro di noi. Ops. Non è che forse la PNL mancava qualche cosina a che ovviamente io non credo a quello che mi dicono quindi mi informo e vado avanti e vado a leggere altre cose anzi se volete approfondire un libro bellissimo che è quello subito dopo dove ho approfondito è La scienza dell'intenzione di Lin-Mettaggart dove per uno scettico e pragmatico è fantastica perché dà esperimenti su esperimenti su esperimenti fatti in tutto il mondo da decine se non centinaia di scienziati. E qui mi mise il dubbio ma non è che per caso quello che dicevano su The Secret guarda caso sarà vero? Andiamo avanti vediamo che cosa succede e studiando su questo libro di Lin-Mettaggart trovo un esperimento alquanto particolare Clint Baxter è quello che ha inventato la macchina della verità avete mai sentito quella che usano le polizie per sapere se state dicendo la verità? Tecnicamente che cos'è? Non è altro che dei sensori che vengono messi alle dita che riconoscono i cambiamenti di umidità perché nel momento in cui si dice una bugia la conduttività della pelle aumenta perché studiamo un po' di più quindi c'è un pennino che riesce a identificare quando qualcuno dice la verità o meno ora Clint Baxter è famoso per aver inventato la macchina della verità ma in realtà ne ha inventato tanto altro e soprattutto lui era tantissimo amante del mondo vegetale quindi aveva insomma tante piante nel suo studio e un giorno fece questo esperimento stiamo parlando del 1966 ovviamente da allora oggi nessuno ci dice niente perché ah tra l'altro piccolo inciso what the bleep do we now è andato nelle sale di quasi tutto il mondo in Italia non lo conosce nessuno questo tanto per gradire nel 1966 Clint Baxter fa questo esperimento mette i suoi sensori della macchina della verità leggermente modificati a una drascena che è un tronchetto della felicità praticamente e lui cosa voleva cosa voleva capire se io bagno la pianta voglio capire sperava di capire quanto tempo ci metteva l'acqua ad arrivare alla foglia più alta in teoria se la macchina percepisce l'umidità dovrei capire questo quindi metti i sensori bagna la pianta e non accadeva assolutamente nulla va beh allora si chiese che cosa posso fare per dare un'emozione alla pianta e pensò di versare del caffè la pianta come si dice a Roma non gliene poteva fregare di meno quindi un pennino perfettamente in linea che pensò a un certo punto potrei bruciarle una foglia nell'esatto istante in cui lo pensò la pianta il pennino schizzò come se fosse stata una persona sarebbe stata pura paura puro terrore addirittura il pennino stava per rompere il sistema quindi la pianta aveva percepito la sua intenzione di volerle fare del male anche lui rimase sconvolto andò dall'altra parte prese un accendino lo mise sotto la pianta e la pianta stava ancora in questo stato di terrore dopodiché lo spense si calmò si tranquillizzò e la pianta tornò in uno stato di tranquillità la pianta aveva percepito la sua intenzione il suo pensiero quindi prima avevamo il dubbio che i nostri pensieri possono rendere più buone le persone poi ne abbiamo un altro che le piante percepiscono le nostre intenzioni quindi forse non è che davvero quel libro abbia ragione non è che davvero i nostri pensieri hanno vibrazione e queste vengono emesse fuori da noi questa è scienza non solo ne fece altri di esperimenti e Ingo Swann che era un suo amico Ingo Swann è uno dei più conosciuti remote viewers del mondo non so se sapete ma CHGB da una vita utilizzano i visori a distanza cioè persone che riescono a vedere oltre riescono a vedere a distanza trovano depositi d'armi trovano persone scomparse trovano insomma diverse cose vi posso anche dire che non è difficile farlo basta soltanto fare un po' di esercizio è una cosa che facciamo a volte anche nei corsi per divertirci quindi vedere a distanza vedere che ne so quello che sta accadendo a casa vostra o altre cose non è estremamente difficile basta fare un po' di esercizio basta fare un po' di esercizio come tutte le cose basta fare un po' di esercizio insomma Ingo Swann che era questo questo remote viewer era un suo amico andò da lui e gli spiegò questa cosa e disse ok fammi provare anche a me quindi dimisero i sensori e Ingo pensò di non ricordo se tagliare o bruciare una foglia insomma qualcosa di simile quindi pensò di bruciare la foglia e immediatamente questa foglia questo il sensore rischizzò in alto quindi lui si ritranquillizzò tolse la sua intenzione dalla testa la pianta si ritranquillizzò di nuovo pensò di bruciare la foglia e di nuovo la pianta rischizzò in alto dopodiché si ritranquillizzò e la terza volta lui pensò di nuovo di bruciare la foglia la pianta non si mosse aveva capito la terza volta che la sua reale intenzione non era di farle del male ma di fare una prova ed è una pianta un essere teoricamente stupido ora ultimamente grazie a quella macchinina lì che abbiamo finalmente in Italia che è una macchina che permette di fare attraverso quel banner lì una fotografia Kirlian anche delle misurare l'energia delle piante abbiamo fatto esperimenti simili abbiamo dimostrato anche lì come la pianta possa percepire le nostre intenzioni quindi come cambia la sua energia nel momento in cui penso che la sto per tagliare o quando la taglio o quando la brucio insomma abbiamo io anche lì non mi fido di quello che dice lui voglio testarlo io adesso abbiamo le apparecchiature per farlo un'altra cosa un altro esperimento che fece questo li trovate tutti sui libri questa è pura scienza trovate esperimenti su esperimenti pubblicazioni su pubblicazioni da quel momento in poi Cliff Baxter mise i suoi sensori a tutte le piante dell'ufficio ed erano completamente sempre monitorizzate un giorno si fa il suo caffè americano quindi potete immaginare quello che loro chiamano caffè quella brodaglia sporca bollente nera ne fece troppa e andò a buttare questa brodaglia bollente nel suo lavandino nell'esatto istante in cui l'acqua bollente andò nello scarico del lavandino tutte le piante schizzarono in alto come se fossero in stato di terrore ok Dio che succede perché perché io verso dell'acqua bollente nel lavandino e tutte le piante hanno paura analizza lo scarico del lavandino e scopre che lo scarico non era tanto pulito ed era pieno di batteri i batteri stavano morendo le urla di terrore dei batteri sono state percepiti dalle piante che sono andate in terrore anche loro batteri che comunicano con le piante che possono essere misurati da strumenti ops non è che davvero i pensieri e tutto quello che ci circonda viene messo al di fuori di noi ed è fatto di vibrazioni e quindi può comunicare ed è questo quello che poi in qualche modo viene chiamata legge d'attrazione andiamo avanti e se cominciamo a studiare un po' quella che viene chiamata fisica quantistica alla fine di questo parolone detto fisica quantistica potremmo riassumerlo in questa frase l'ambiente circostante non è altro che un'estensione della nostra mente questa è molto forte come frase questo vuol dire che tutto ciò che ci è accaduto nella nostra vita lo abbiamo attirato noi tutto il bene o il male se i nostri pensieri hanno vibrazioni le nostre vibrazioni emesse nell'universo non fanno altro che attirare vibrazioni simili attenzione però qui andiamo a trovare l'inghippo la legge d'attrazione non funziona sul pensiero cosciente ma funziona sull'intenzione ricordate la differenza prima dell'intenzione la vera intenzione di Ingo non era di bruciare la pianta ma di fare un test e la pianta l'ha compreso la vera intenzione è quella che emana la vibrazione che attira quello che poi può essere chiamata legge d'attrazione adesso ci arriviamo adesso vi sto confondendo ma poi vi metto a posto tutti i pezzi e qui iniziamo a capire un po' meglio le cose Max Planck premio Nobel per la fisica non esiste materia tutto è vibrazione praticamente qual è la sua scoperta che tutto ciò che noi vediamo come materia noi stessi per primi tutto ciò che è questo pavimento qualunque cosa noi vediamo come materia in realtà nella sua forma più elementare nella sua forma più atomica all'interno dell'atomo all'interno di ogni quanto non è altro che vibrazione sapete cos'è una vibrazione avete mai avete mai visto ho sentito dire di quelle cantanti liriche che nel momento in cui prendono una determinata vibrazione fanno scoppiare i bicchieri che cos'è secondo voi quel principio come fa un bicchiere che in teoria è materia a esplodere perché qualcuno canta una determinata vibrazione pensateci la materia non è altro che vibrazione immaginate probabilmente tutti voi avete sentito della musica la musica quella che noi sentiamo dalle casse non è altra che una vibrazione dell'aria che a determinate frequenze è udibile dalle nostre orecchie quelle stesse vibrazioni a frequenze diverse sono quelle che emaniamo noi che emana ogni oggetto ogni cellula ogni persona ogni pensiero Max Planck ci ha dinto un premio Nobel infatti questo è un suo testo che trovate un po' ovunque non so se lo leggete dice avendo consacrato tutta la mia vita la scienza più razionale possibile lo studio della materia posso dirvi almeno questo a proposito delle mie ricerche sull'atomo la materia come tale non esiste tutta la materia non esiste che in virtù di una forza che fa vibrare le particelle e mantiene questo minuscolo sistema solare che è l'atomo possiamo supporre al di sopra di questa forza l'esistenza di uno spirito intelligente e cosciente questo spirito è la ragione di ogni materia questo è uno scienziato premio Nobel per la fisica non stiamo parlando di un esoterico o chissà chi ora quella che viene chiamata legge di attrazione vediamola come legge di risonanza ogni musica ha un suono ogni suono ha una vibrazione che cosa accade se vi faccio un esempio pratico molto più semplice per capire cos'è la legge di attrazione immaginate che voi siate il disgioche di una discoteca ok e decidete una sera di mettere soltanto musica da discoteca che persone attirerete ragazzi giovani a cui piace la musica da discoteca quella bella piena di bassi ok se improvvisamente mentre la discoteca è piena di 800 ragazzi mettete un liscio o un waltzer che cosa accade ok non è difficile giusto è un concetto abbastanza logico e che succede se abbiamo una bella sala da ballo dove mettiamo un waltzer attiriamo tutte le persone che amano il ballo liscio e a metà serata cominciamo a pompare musica da discoteca che succede si svuota ok questa è la legge d'attrazione qual è la vostra musica la musica che voi suonate attira le persone che risuonano la vostra stessa musica ed è vibrazione quindi e questa è una cosa semplice è una cosa semplice da comprendere questa è la legge d'attrazione pensateci avete mai visto gente estremamente motivata votata al successo che è piena di amici sfigati no gente iperattiva che sta con persone apatiche che stanno lì aspetta fare con calma le cose no non riescono non vibrano alla stessa frequenza possono provarci per un po' ma nel lungo termine non ce la faranno ci siete? ci siamo? non è difficile questo questo è un concetto che può capire chiunque è banale ora vi chiedo qual è la vibrazione che voi emettete di base perché la vibrazione che emettete è quella che attirate vi faccio vedere che cosa accade tecnicamente fisicamente quando vengono visualizzate delle onde ora le onde le frequenze quelle di cui noi siamo fatti sono fatte di un'ampiezza se abbiamo un fonico in sala correggimi se sbaglio fonico sono fatte di un'ampiezza di un'intensità e di una fase giusto? ok stiamo registrando quindi abbiamo un esperto di suoni quindi ampiezza intensità e fase e frequenza ok quindi ognuno questo fa frequenza ok ipotizziamo che questa sia una persona flessibile e una persona estremamente rigida i loro pensieri di base emetteranno delle frequenze diverse possiamo visualizzarle in questa maniera una persona estremamente flessibile e una persona estremamente rigida notate la somma questa è la somma delle due frequenze che frequenza oscena che tira fuori ora questo è il caso in cui due persone la faccio rivedere che non vibrano alla stessa frequenza sommandosi difficilmente potranno andare d'accordo perché alla fine la somma delle due vedete quanto è brutta ve ne faccio vedere un'altra ipotizziamo che questa sia una persona con dei grandi obiettivi e una persona con dei piccoli obiettivi io voglio creare una fondazione che possa aiutare tutte le persone nel mondo e la mia compagna il suo più grosso obiettivo è diventare dipendente statale alle poste ok potremmo avere due vibrazioni diverse una molto più ampia e una molto più piccola e la somma delle due non è proprio una bella vibrazione non è un bel disegno alla fine dei giochi dopo un po' di tempo probabilmente queste due vibrazioni non andranno più d'accordo perché in qualche modo non vibriamo alla stessa frequenza non è difficile vediamo una persona una persona iperattiva e una persona apatica per esempio quella che va a mille fa centomila cose all'istante e l'altra che con calma tranquillo fermi ora due persone del genere in una relazione in un lavoro pensate che possono andare d'accordo per tanto tempo in un team o in una relazione di di uomo-donna ora invece vediamo che cosa accade due persone che condividono gli stessi ideali sogni e obiettivi che vuol dire che le loro frequenze sono uguali le faccio vedere e questa è la magia della legge di attrazione quando due frequenze sono uguali si dicono in fase e la somma si raddoppia questo è il caso in cui due persone vanno d'accordo stanno bene hanno le stesse idee gli stessi pensieri la stessa vibrazione e quindi il loro rapporto può funzionare e qui accade una cosa strana sapete che cosa accade se le due persone sono esattamente opposte l'una all'altra se io penso positivo l'altra negativo se io penso bianco e l'altra nero grazie a tutti grazie a tutti